E benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video andremo a esplorare la caverna della mototeca Per aiutarvi appunto a orientarvi Siamo con Lorenzo ovviamente, Lorenzo saluta Ciao Allora, adesso raga nel frattempo noi andiamo avanti Stasera le 19 in live Ve l'abbiamo già Se non vi voglio fare, vi biangeremo tantissimo No raga, a parte di scherzi Veramente questa sera in live Sennò piangiamo veramente In live Allora Ovviamente raga come sempre alle 7 di sera Raga comunque dopo mi iscrivo anch'io al canale Va bene Comunque raga Mi iscrivo anch'io al canale Va bene Comunque raga adesso dovrete scendere qua sotto Dove ci sarà tutto questo Voi scenderete qui Poi andrete qui E magicamente troverete qui la motosega Magicamente Poi Quindi mi deve essere Lei T'ho fatto Ah vero Raga e qua ci sarà No no non me l'hai fatto Un boss Ma non me l'hai fatto Aspetta che te lo rifaccio Raga qua ci sarà un boss Ma voi non continuate la caverna Perché tanto quello che ci interessa da noi È la motosega Spero che così vi sia piaciuto raga Alle 19 live E non dimenticate di iscrivervi al canale Attivatevi alla campanella E come sempre ci vediamo al prossimo video Bella